ben italia 2022 continua ci troviamo lo stand di pay complete l'azienda multinazionale che prosegue il discorso fatto da suso app negli ultimi anni e ci troviamo in compagnia di luca rossato il responsabile commerciale per l'italia luca benvenuto dopo quattro anni finalmente ci rivediamo e benvenuto anche a te fabio dopo quattro anni ci si rivede finalmente grazie allora facciamo il punto della situazione io ti ho lasciato in una magnifica società che si chiama suzo app e poi cos'è successo e poi è successo fabio che due anni fa è nata pay complete è una divisione dedicata proprio la gestione dei pagamenti è una nuova identificazione di suzo app mantiene comunque sia lo storico prodotto gli stori storico range prodotti di comestero gruppa e li portiamo avanti portando poi delle innovazioni che qualcosa abbiamo portato qui a venditalia e cosa avete portato qui a venditalia per offrire una serie di prodotti nuovi al popolo del vending allora ci presentiamo con una linea di device per carta di credito consolidato ormai comunque sia credo sia il momento per iniziare a spingere il mondo del cashless della carta di credito è entrata in modo prepotente in questo mercato e noi proponiamo questa soluzione una soluzione semplice easy veloce adatta al mondo del vending portiamo poi un'evoluzione del nostro cavallo di battaglia che è il working light è denominato plus e ha in più la connettività con tutti quei sistemi oggi di telemetria di app in pagamento cosa che non mi mancava quindi l'abbiamo ulteriormente completato e portiamo una soluzione però non dedicata al vending ma dedicata più o meno agli sviluppatori la vediamo qui è la soluzione si chiama pay connect quindi è una sorgente dedicata agli sviluppatori quindi dal chi crea fioschi al chi crea macchine a chi crea soluzione quindi diamo già tutta la parte di pagamento gestione delle periferiche pronta all'uso il mio ipotetico cliente si va a sviluppare la parte di potenza semplifichiamo e riduciamo i tempi di sviluppo ecco tu nel frattempo comunque per pi complete continui a girare tutte le regioni d'italia con una trottola certo che sì certo che sì la macchina mai è consumata è finita e io continuo a fare il mio lavoro e mi piace farlo bene e allora ogni volta che magari capiti dalle parti di napoli fammi un fischio e magari un buon caffè possiamo prenderlo insieme luca diamo un indirizzo email per poter fare in modo che chi è dall'altra parte possa scrivere a voi per entrare in contatto diretto con il commerciale e dunque richiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti lascio la mia mail quindi luca punto rossato chiocciola pay complete punto com bene noi continuiamo dunque il nostro percorso itinerante per scoprire le tantissime novità presentate qui a venditalia è stato un piacere un piacerissimo incontrarti luca è veramente un grandissimo piacere ciao ciao fabio ciao fabio ciao e ciao ben d'italia